Presidente, andrete voi del governo a festeggiare questo primo maggio? Il governo sceglie di lavorare. Cosa ne pensa della serie Mare fuori? Una serie molto articolata. Non pensa che la scelta di lavorare il primo maggio sia di cattivo esempio per i lavoratori? È una scelta della quale io vado profondamente fiera. Anche se ne dessero 50 euro non andrebbe a festeggiare. Possono arrivare anche a 100 euro. Fiera del Carciov o concertone in piazza San Giovanni? Fiera. Parliamo di calcio, cosa pensa del Napoli? Ci sta dando grandi soddisfazioni. Presidente, mi scusi, ma se deve lavorare, ma perché sta perdendo tempo a registrare questo video? Non faceva prima a fare una conferenza stampa? Buon primo maggio a tutti. Buongiorno. Sì, ma, Presidente. Presidente. No, beh. No, beh.